Milani è un prete della mia diocesi, del mio presbiterio, anche se molto più anziano di me. E quindi indirettamente c'era una consuetudine di vita. Abbiamo avuto più o meno in seminario gli stessi superiori, un signor Bartoletti. Il mio vicerettore era suo compagno di banco, il cardinale Silvano Piovanelli. Sentivamo continuamente parlare di lui perché era, diciamo così, un uomo che aveva una intelligenza creativa, innovativa e che superava continuamente se stesso. E poi per le sue scelte così radicali e coerenti, per il primato che ha dato alla coscienza. Io spesso l'ho paragonato a Newman, proprio per questo. Quindi era un, diciamo così, è un po' come Gesù, un punto di contraddizione. Ecco, un segno di contraddizione era Don Milani. C'era chi lo condivideva spassionatamente e chi apertamente lo osteggiava. Non era un uomo di mediazione, ecco, quindi... Però certamente noi, perlomeno tutta una parte di noi, in seminario, seguiva il suo metodo di scuola, i suoi interventi e la lettera alla professoressa, la lettera ai giudici, prima ancora nel 1954, le esperienze pastorali. Quindi è stato veramente, ecco, sempre oggetto d'attenzione. Invece Mazzolari rappresenta, ecco, quei grandi preti che ce ne sono stati un po' in tutte le diocesi, in quel periodo prima del concilio, da paragonarsi anche ai grandi preti della Carità, Don Orione, Don Guanella, questi uomini veramente eccezionali che hanno costruito un umanesimo cristiano che era tutto incentrato su Cristo, ma con un'attenzione profonda all'uomo e ai suoi problemi. Questo umanesimo, che appartiene a tanti uomini, anche della Chiesa fiorentina e anche a Mazzolari in pieno, nell'esercizio del suo ministero, lo definirei, con due parole, prese in prestito dalla Pira, il pane e la grazia. Nella parola pane ci sono tutti i problemi dell'uomo, il problema della casa, del lavoro, della famiglia, dei figli, l'ospedale, la scuola. Era anche una concezione tipica di la Pira. Il tutto però avvolto nella grazia, nella dimensione soprannaturale. Il pane e la grazia. L'umanesimo cristiano di questi grandi uomini, compreso Mazzolari, che l'ha espresso pienamente in un'azione pastorale nelle tre parrocchie dove è stato e soprattutto a Bozzolo, che è la parrocchia anche più grande, dove ha potuto esprimersi più. Lei ha visitato anche don Lorenzo Milani quando era nel suo esilio di Barbiana. Che ricordo ha di quella giornata? Quella è una giornata che io me la sono sognata anche di notte. Partimmo in due con un mio amico carissimo di seminario al cui ricordo mi commuovo perché è morto abbastanza giovane. Era parroco di Peretola, Piero Mirri. Partimmo con una lambretta da Firenze, di nascosto, perché non chiedemmo il permesso e sapevamo che il rettore non avrebbe potuto darcelo. E allora abbiamo fatto proprio anche noi un discorso di coscienza. Lui non ce lo può dare, è inutile chiederlo, mettiamo in imbarazzo, tentiamo la sorte. Siamo arrivati, abbiamo lasciato la lambretta dove finiva la strada, abbiamo raggiunto Su e lui ci è venuto incontro. Noi eravamo in tonaca perché non era ancora stato fatto il decreto per cui i preti potevano andare in clergymo con la nostra tonaca. Voi chi siete? Con due occhi che ti inquadravano e quasi ti fulminavano, però con un fondo nella severità di grande dolcezza che era poi lui alla fine. Due seminaristi. Avete chiesto il permesso al rettore? No. Ecco, si comincia male. Fossi io il rettore, vi butterei tutte e due fuori di seminario perché siete disobbedienti e ricordatevi che io ho sempre obbedito. Già che l'ho sempre detto che forse l'unico educatore per poter fare il rettore di seminario sarei stato io perché aveva tutte le virtù di Lorenzo perché la modestia non la conosceva. diciamo così, finito questa specie di uragano di parole noi li zitti buoni va bene dice io ho tempo da perdere non ho anche perché la mia vita ormai è molto compromessa sarà stato il 63 64 lui è morto nel 67 la malattia cominciava anche a occupare di vari spazi e periodi della sua vita e tutto quello che mi resta del mio tempo lo devo dedicare a questi marmocchi allora se avete qualcosa da dire ditecelo vi ascoltiamo altrimenti ascoltate voi che avreste fatto voi? vi sareste messi a insegnare qualche cosa? poi alla fine quando si andate via i ragazzi è stato di una dolcezza unica dice ma perché così continuamente mi negano tutti i permessi io domani sera dovevo andare alla casa del popolo di Vicchio e avrei messo con le spalle al muro tutti i comunisti perché anche loro sono come quegli altri eccetera perché blandiscono il popolo con parole buone e poi gli stanno dando soltanto la valigetta io glielo ho detto tante volte che dovrebbero fare delle loro case del popolo delle scuole come ho fatto io lui era severo era esigente con tutti loro hanno paura ad affrontarmi la curia dicendomi di non andare fa un servizio a loro gli fa un piacere perché e questo era Don Milani perché lei aveva sentito il desiderio insieme al suo compagno di salire a Barbiana di conoscere quest'uomo cosa la affascinava è la domanda che posero a Gesù Giovanni e Andrea appena lo incontravano sul Giordano che era lì in compagnia di Giovanni Battista maestro dove abiti noi avevamo il desiderio avevamo letto tanto di questa Barbiana ma cos'è Barbiana cosa si vive concretamente qual è l'esperienza di questo prete cosa ha da dire questo prete questo prete che vedevamo sulle riviste ma gli occhi vivi suoi non li avevamo visti ecco maestro dove abiti in che cosa si considera suo allievo io sono un carattere completamente opposto da lui io sono un carattere anch'io aperto sincero mi sono anche definito improvvisatore quando mi hanno fatto l'intervista appena sono stato eletto presidente della CEI ma io sono un carattere mite timido che preferisse sempre stare un posto indietro e forse io ho sempre visto in lui e continuo a vedere lui perché gli voglio bene a Don Lorenzo quello che manca a me Don Lorenzo come Don Primo è stato esiliato incompreso è stato un profeta della Chiesa in che cosa invece si differenziavano questi due uomini che hanno vissuto in qualche modo anche stagioni diverse beh intanto per una differenza di carattere dobbiamo tenere conto che Don Milani era di origine ebraica l'Alice Veis e la sua mamma era un ebrea e sappiamo che chi dà la discendenza è proprio la madre quindi io direi che Don Milani coniugava due cose aveva il riferimento di di Mosè di Abramo e in quanto prete cattolico di Pietro per lui quasi con una visione preconciliare perché è morto che i documenti del concilio non erano stati ancora pubblicati lui aveva questa visione rigida dell'autorità del Papa e del Vescovo loro sono i sorveglianti della Chiesa e devono stare attenti sulla mia dottrina e mi devono dire se io sbaglio sono fuori della Chiesa perché questo sarebbe il disastro più grande loro sono stati messi lì in fondo lui aveva una visione molto piramidale della Chiesa direi anche dal punto di vista teologico rigida e lui con questa visione è stato conseguenziale fino in fondo primo Mazzolari invece è proprio l'intellettuale cattolico che già anticipa il concilio con le sue intuizioni un carattere dolcissimo mi raccontavano quando andavano i bambini sono stato a Bozzolo a fare un intervento su di lui quando andavano i bambini aveva una tenerezza immensa tutte e due avevano la stessa forza d'animo però tutte e due non rinunciavano ad un millimetro alla verità che sentivano nella loro vita tutte e due disposti a pagare fino in fondo per questa verità due personalità completamente diverse tutti e due obbedientissimi anche se in modo diverso se Don Milani non fosse stato obbedientissimo Francesco non avrebbe senso la visita di Francesco a Barbiana perché sarebbe stato uno dei tanti preti coraggiosi anche anticonformisti che si sono distinti con un carattere estremamente forte ma Don Milani non è tutto questo Don Milani è un uomo di una fedeltà assoluta alla Chiesa e alla sua coscienza il concetto però di obbedienza di Milani non è un concetto legalistico se noi leggiamo con attenzione la lettera ai giudici è un concetto molto più profondo che parte dalla lettera di San Pietro quando Pietro esce di carcere e gli vogliono ma perché allora tu dovresti fare cosa risponde bisogna obbedire prima a Dio che agli uomini e lui sentendosi maestro investito ad una grande responsabilità soprattutto nei confronti dei suoi ragazzi in fondo ha insegnato questo tipo d'obbedienza che è un'obbedienza prima di tutto alla parola di Dio li ha abituati in coscienza a distinguere se quella legge è giusta è buona tu la obbedisci e ci muori sopra ma se va contro la legge di Dio e va contro l'uomo la tua non è una disobbedienza e non è nemmeno un'obiezione di coscienza era un'espressione che a lui non piaceva era su un piano molto molto più alto Don Milani dell'obiezione di coscienza era proprio sul piano di Pietro e io sono convinto che Francesco va lì e indipendentemente da questi due discorsi va a venerare la tomba di due preti che pur diversissimi fra di loro sono stati significativi nella chiesa di quel tempo perché tutte e due come dice Francesco profumavano di pecora io a Bozzolo ho detto questo caro Papa Francesco tu hai avuto un'espressione bellissima nell'Evangelii Gaudium quando hai definito la chiesa un ospedale da campo ma ricordati che Mazzolari io ero di fronte alla sua tomba ti ha preceduto perché questo diceva della chiesa 56 57 60 anni fa la chiesa la parrocchia è un popolo è un popolo che cammina e ogni tanto qualcuno cade sul proprio zaino e si ferisce e la chiesa è l'ambulanza che lo raccoglie e lo porta e lo cura la stessa cosa chiesa ospedale da campo la chiesa l'ambulanza che raccoglie chi si è ferito nel cammino senza guardargli in faccia chi sia io sono convinto che Francesco ha fatto questa scelta come ha fatto la scelta di andare a benedire le case ma che vuol dire c'è bisogno che il Papa vada a benedire le case vuol dire preti ricordatevi di visitare le vostre famiglie Francesco è l'uomo dei segni compie dei segni ogni tanto compie un segno che sia un segno esemplare lo fa lui pastore di tutta la chiesa perché noi lo seguiamo si può considerare una sorta di riconoscimento postumo io questo non ci ho pensato ma non lo credo nemmeno perché Bergoglia ha pagato poco in America Latina le sue scelte tutti abbiamo pagato qualche cosa e il prezzo di quello che abbiamo pagato non ce lo dà il Papa o la chiesa ce lo dà Dio la chiesa vuol dire quest'uomo ha camminato sulla strada giusta è stato un pastore delle anime è proponibile per tutti questo è il compito della chiesa ne riconosce la profezia per Don Primo Pazzolari si è aperta la fase diocesana del riconoscimento delle sue virtù eroiche per Don Lorenzo no secondo lei è santo anche Don Lorenzo Milani Don Lorenzo Milani è santo per come l'ho conosciuto io alla fine chi è il santo non è quello che è il più carino di tutti che ha meno difetti di tutti o che moralmente ha il profilo più alto di tutti questa è una concezione della santità un po' superata il santo secondo me è uno che è vaccinato di spirito santo e che rimane anche col suo caratteraccio perché Don Lorenzo veramente delle volte ha avuto dei modi di trattare quasi al limite ma perché è santo santo in senso lato santo fra virgolette perché tutto nasceva dalla purezza del suo cuore e lui insegnava anche in quel modo era lui si superava tutti i giorni era difficile dire a lui sulle sulle esperienze pastorali hai scritto questo e oggi dici questo perché si arrovellava continuamente nel perfezionare il suo le sue idee la sua intelligenza era un vulcano in continua esplosione Don Milà quindi se si parla di santità della Chiesa che è questo essere vaccinati veramente dallo spirito di Dio e le cose non le fai per te ma le fai per il Signore siamo sul piano della santità ma quella di Don Lorenzo è una santità che sarebbe difficilmente canonizzabile secondo anche gli schemi che abbiamo oggi e poi non ce n'è bisogno non c'è bisogno secondo me che Lorenzo faccia i miracoli perché caro Lorenzo gli dico la tua vita è stata un miracolo lo vedo così io ecco la sua sfida anche esistenziale oltre che culturale al mondo all'Italia di quell'ora secondo lei è compiuta o c'è ancora da fare? Chi ha tradito più Don Milani è chi l'ha voluto imitare Don Milani è un uomo che dopo l'esperienza di Calenzano che è stata relativamente breve va inquadrato per 15 anni dal 52 al 67 a Barbiana è stato un parroco di 80 anime la scuola la cominciò con sei ragazzi la prima fu la mamma quanto sarebbe tutto un capitolo adesso non possiamo entrare quanto gli è stata difficile e che sostegno è stata la mamma la mamma lo ridimensionava continuamente la prima volta che è andata a trovare lassù che lui si vergognava perché non c'era la luce non c'era la strada non c'era l'acqua la mamma veniva dall'alta borghesia dei veis sposata con Milani altro grande tutti dottori ingegneri eccetera la mamma era dell'alta ma aveva una sensibilità simile alla sua e lui disse ragazzi domani viene la mamma dobbiamo comportarci bene perché noi siamo cristiani lei è ebrea e dobbiamo dimostrargli che noi cristiani siamo più bravi degli ebrei questo fu il discorso che fece ai bambini e poi racconta Gesualdi perché io molte delle cose che vi dico proprio l'ho letta e lo ritengo un interprete autentico Gesualdi e diceva quando c'era la mamma si addolciva anche con i ragazzi non dava castigo non brontolava e poi sottovoce diceva adesso andava via la mamma faremo i conti perché la mamma era un deterrente per lui era la mamma ebbene quando lui è andato a Barbiano la mamma gli ha scritto una lettera che è interessantissima dove gli dice Lorenzo non avere paura parleremo col cardinale ora sai era successo un po' di confusione a Calenzano eccetera ma lui ti ha messo lì per salvarti non ti vuole condannare vedrai che prima o poi ti leva stai tranquillo il cuore di una mamma non poteva che dire così lui dà una risposta feroce alla mamma l'unica volta che si ribella la mamma e gli dice io non ti permetterò mai di andare contro la mia coscienza tu misuri la dignità di un prete dalla grandezza di una parrocchia ma che importa se un prete ha 20.000 anime 80.000 quando è chiamata ad annunciare il Vangelo e a fare il prete là nell'obbedienza dove è stato costituito dalla Chiesa io sono contento d'essere a Barbiana e ti dico voglio morire a Barbiana quindi l'esperienza di Lorenzo è proponibile nel suo atteggiamento di fondo non in quello che ha fatto perché se lui non fosse stato a Barbiana avrebbe avuto una pastorale molto diversa da quello che ha avuto però sempre nella fedeltà a questi principi si diceva prima della coerenza della coscienza e lui è un prete fino in fondo lui è stato folgorato lui da non credente è passato ad essere prete e lo è stato proprio un prete intriso della sua missione della grazia di Dio fino in fondo come se fosse nato prete lui che appena era stato battezzato per i motivi che sappiamo insomma anche i motivi della persecuzione razzista eccetera ma Don Milani è ancora incompreso secondo lei almeno nella sua profondità così come lei ce lo sta restituendo ma io credo che non tutti l'abbiano compreso sono sono stato molto contento perché Cardinal Betori mi ha portato i preti giovani di Firenze ormai tutta una generazione che sono diversi anche i nostri preti giovani come mentalità come tutti e ha voluto che io gli illustrassi queste fotografie grandi di Firenze quindi Milani ho parlato di Balducci di Turoldo di Don Barsotti Piovanelli eccetera però anche con appunto con il Cardinale convenivamo che ormai anche nella nuova generazione certe cose sono superate ecco non lo contestano perché non lo conoscono non lo contestano perché non lo conoscono quindi per me è grandissimo questo gesto del Papa che va a dire attenzione questi uomini mazzolari e milani hanno ancora qualcosa da insegnarci e che cosa loro hanno da insegnarci oggi? nei tempi in cui ti trovi dinanzi alle situazioni che ti stanno di fronte comportarti con la stessa coerenza obbedendo prima a Dio che agli uomini oggi non ci sono più le fabbriche dove i ragazzi non hanno i loro diritti devono lavorare 16 ore oppure uno così viene le condizioni sono diverse abbiamo il problema dei migranti abbiamo tanti problemi in Italia gravissimi io le accennavo anche stamattina le nostre famiglie che si stanno liquefacendo si sta liquefacendo la famiglia in Italia forse anche per tante immaturità e per tante situazioni non solo esteriori ma proprio anche dall'interno ecco questa profezia di Milani e di Mazzolari sarà valida anche fra cent'anni perché è il Signore che ti dice fai tu ora quello che lui ha fatto allora Mazzolari abbiamo parlato molto di Don Milani invece Mazzolari lei l'ha conosciuto attraverso gli scritti tutti gli riconoscono questa grande capacità profetica la capacità di anticipare il concilio Vaticano II tutto ciò che ne sarebbe scaturito come poteva quest'uomo questo parroco di Campania avere una così grande visione della Chiesa e del suo futuro ma certamente aveva anche una preparazione eccezionale aveva una umanità profonda in tutti i sensi però non si spiega né Mazzolari né Milani senza il tocco della grazia di Dio alla fine i profeti li fa il Dio e li fa in un determinato tempo nunc protunc adesso per dopo e ora allora io dico di Don Milani ce n'è bisogno oggi di Don Mazzolari ce n'è bisogno oggi non perché oggi si debba rifare la scuola di Barbiana non ci si pensa nemmeno anche se io l'ho fatta potrei raccontarvi delle cose bellissime di quella scuola perché sono andato da un prete suo gemello che mi insegnava le stesse cose ma e tu come Gesù dice allo scriva dopo la parabola del samaritano tu vai e fai lo stesso ho detto primato della coscienza il coraggio di dire la verità anche a costo che ti facciano smettere di predicare e di scrivere ma quella è la verità che ti suggerisce Dio senza disobbedire la Chiesa obbedire a Dio prima che agli uomini e loro l'hanno fatto e queste sono delle costanti e delle linee direttrici per la Chiesa di ogni tempo c'è anche quest'amore per i poveri che sia non Lorenzo Milani ma soprattutto anche Don Primo Mazzolari hanno voluto proprio porre al centro della loro azione pastolare e anche qui hai fatto bene a dirmelo perché c'è da fare un chiarimento hanno sbagliato quando hanno fatto di Milani un sociologo un maestro e così via per Milani la cultura la scuola la scelta radicale dei poveri spendere tutto il suo tempo per loro non era fine a se stesso la scuola di Barbiana ma in coscienza per lui era l'unico mezzo per portarli a Cristo e dargli sacramenti a un certo momento ora non mi ricordo più dove dove lo dice non ha senso aiutare il povero se poi se poi ti fermi lì e non gli fai fare il passo ulteriore ecco lo porti a Cristo per cui Don Milani non ha mai rinunciato nemmeno in un'unghia ad essere prete come Don Primo lo sono stati fino in fondo con metodologie diverse ma lo scopo non era per questo non sono stati dei classisti tanto meno dei comunisti qualcuno ha definito classista Don Milani l'ha definita comunista lui era un prete che volendo annunciare il Vangelo e dare i sacramenti della salvezza quando poteva si confessava anche due volte alla settimana e stava attentissimo che i suoi ragazzi vivessero i sacramenti perché lì vedeva la vita di Cristo la vita della grazia cristianesima e grazia lo dicevo prima è pane ma anche grazia però il metodo perché lui si era accorto che c'era questo dislivello c'era delle persone che erano i pierini e lui era uno dei pierini che avevano tutto perché avevano una cultura perché avevano il modo di interpretare di sapevano parlare come porsi c'era e c'erano degli ultimi che sarebbero sempre rimasti ultimi sfruttati da tutti perché non avevano questi mezzi lui ha voluto dare anche agli ultimi gli stessi mezzi che avevano gli altri perché fossero uomini e cristiani e vivessero in pieno la loro umanità e con metodi diversi possiamo dire anche la stessa cosa di Don Primo quindi c'è molto di Mazzolari e di Milani nell'azione pastorale di Papa Francesco moltissimo ed è per questo che io giubilo che lui va a Barbiana che per me anche perché io soprattutto Milani che l'ho sempre stimato l'ho sempre amato ma qualche dubbio poteva venire anche dal confronto leggendo versioni diverse è quasi un magistero che va il Papa e dice questi sono due preti autentici questi sono due modelli che nella debitaforma possono essere proposti anche alla Chiesa di oggi grazie a tutti